bella ragazzi siamo i granassi siamo tornati con 9 episodi di gta e siamo al mare con Michael inciavate un'ciavate, camicia aperta, uv4 guardalo, è appena uscito da... il caretto tuo dog che sta qua tutto si è mannato boom crociato partito e possiamo andare con la macchinetta no, aspetta voglio lei guarda non scappa, ehi, boom it comes there no, no sei andato guarda come so, bello no, non ce la vai bello, complimenti la riporta qui quello che ho detto, quello di capirlo, bravo visto, bravo bravo visto sentite maffanculo basta mamma mia, morite tutti carneficina sul pontile ok, da e poi nessuno verrà più a romper cazzo qua del pontile papà, questo come ruolo come una palletta io non volevo però creare così non vuole fare questo ciao 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 scusa mamma me fa rassà me fa rassà me fa rassà romanzo ho preso di ossaggi non potete prendermi vabbè ciao ditto dritto di massa e mezzo mamma mia peggio di neymar uo 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 mamma mia buon mamma con il morto ok fatto fatto si ma il ragazzo è un senso di soggetto sentiamo a giocare a golf no ci passo qua dove volentrò qua eh sì certo ho perso un attimo la pallina ecco polizia subito 2 stelle come polizia perché sta dentro al campo dentro al campo da golf con una macchina cioè non è molto salutare per la gente non lo fare non lo fare cioè pensai che fossi una piscinetta così tranquilla vabbè ce l'ho fatto mamma mia neanche si è bagnato vai la doppia eh la doppia la double kill 1 eh no vai 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 mamma mia che odio ma perché non ce la fai basta che t'avvicini e premi i cerchi si racconti gli ero l'albero che cazzo è cascato come si fa a buttare questo tipo di testa eh tipo quadrato x boh boh mamma mia strike no ma se mi era da solo eccolo 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 boh che cavo ma questo non si è stanca spara dai aspetta aspetta boh calda da minde morti proprio a punto non fa un culo mamma mia o anche i calci aria a mano l'uomo del tempo per piedi che ti dà la gente mamma o forse si incredibile guardate non le diamo a te ben no 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 se mezzo a 2 insolvete il giro è sto scemo invece quando quando invece stai a sparenza la piazza me lo dicono no 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 a puttana che cazzo fai guarda che culo eh ti mori male ma sono quello che ha fatto io non mi sto facendo non mi sto facendo però la polizia eeeh mi ha fatto un po' con la sua ma come cazzo fai vabbè si si può fare eh dai questo è l'obiettivo di oggi no guarda ho visto guarda ho visto tu un po' che mi ho visto visto eh ho visto io pezzi di la polizia pezzi di me veloce per quello ho un nome di mirallà cazzo di lui ma io mi vai 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 tu vai eh ma lo nuovo un po' che non è l'altra parte mi sta stigarsi infatti niente l'avvento di gioco da su ciao ecco qua qua buon modo che tramvalete domani muovo piano Guarda adesso se si incastrava l'ammazzavo Mamma mia regà il furgoncino Della polizia Fighissimo Sì fighissimo ma chissà quanto va piano Non credo vada piano Mi sono Agab Talmente Agab che guida Oh Sei incastrato Ah c'ha pure il co No Ho chiuso pure lo sportello Ciao Corre Sì Guarda c'è una sotto dietro E' piena E' un po' complicato adesso Ciao 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 Mamma mia che equitatore Mamma mia Complimenti No no C'è che rendelo però Ma eccolo eccolo Aspetta Questa te l'hai via Cazzo Vai fu conciò da tutte copie Sbrigati Vai copitana di merda L'hai preso Oddio l'ho preso Oddio l'ho preso Con la nota bucata Ma l'ho preso Va bene così Oddio No Ammazza S'ho durato tanto Comunque Siamo riusciti a prendere il furgoncino Della Swat Sì Anche per questo video è tutto Noi ci becchiamo al prossimo video Se vi è piaciuto Lasciamo 2000 like E consigliateci cosa fare nel prossimo video Mi raccomando Dai Bella Bella